è vero come noi piacerebbe giocare e basta, poi è un po' che la mette sia al centro capo un po' che se non lo fa benissimo grazie Avedeo grazie Avedeo e intanto io ringrazio anche Marco Civoli che va a sentire proprio la conferenza stampa di Gian Piero Ventura e però c'era Alberto Zaccherone che giustamente